Io in realtà con De Luca avrei un sacco di cose da chiedere, io facevo il sindaco e De Luca era il sindaco sempre più amato perché poi noi cercavamo di... Guardavo i suoi video, Lorenzo io vi ho fatto una domanda seria, ma questo frullino amoroso perché questa domanda delle scritte sui muri era francamente un problema, tu vai nelle città e i cittadini richiedono ma perché queste scritte eccetera e io avevo le mie tecniche, avevo fatto gli angeli del bello a Firenze richiamavano gli angeli del fango, accostamento che abbiamo capito di intreccia, troppo cervellotico e quindi mi fa uno dei miei, dice ma hai visto YouTube cosa fa Salerno? Su YouTube cosa fa Salerno? Io dico che fa Salerno? E vedo il video in cui Enzo De Luca rivolge la domanda direi di vita esistenziale a questo frullino amoroso che spero che non abbia lasciato il fidanzato per colpa di De Luca perché questa è roba che altrimenti Cici è in sala frullino amoroso? Vota Caldoro frullino amoroso paura perché le ha fatto mollare il fidanzato e avrei molte altre cose da chiedere